Hai già avuto l'opportunità di esordire e anche in maniera positiva perché diciamo che è partito dal tuo piede poi l'azione che ha portato al rigore. Quindi insomma, credo che sarai soddisfatto. Prima sono soddisfatto della prestazione della squadra che è stata ottima. Credo che meritevamo molto di più perché la squadra ha fatto una grande prestazione e poi per quanto mi riguarda sono entrato un quarto d'ora della fine per dare una mano alla squadra e provare a aiutare la squadra. Come l'hai vissuto il picco? No, è un grande stadio, veramente è diverso. Da quello che ho conosciuto prima è molto diverso. Diciamo che è il dodicesimo uomo nostro. Tu che sei marsigliese, ma è vero che la curva del picco assomiglia un po' come forma ovviamente in piccolo? Allora, io la prima volta che ho visto il picco, vi devo dire la verità, quando sono venuto con Latina due anni fa, la prima volta, quando ho visto la curva ho detto che assimiliava allo stadio dell'Olimpica Marsiglia, al velodrome. La curva è uguale, è vero. Solo che il velodrome l'hanno coperta adesso, prima era scoperta. Sì, era scoperta. Quali sono le tue radici marsigliesi? Insomma, c'è un carattere marsigliese che un giocatore si porta dietro? Sì, il carattere, diciamo che nel senso buono è maimolare, carattere un po' del sud, città di mare, un po' come qua. Quindi non è tanto lontano, quindi è a 450 chilometri, quindi c'è tante cose che si assimiliano. Sabato vi aspetta una trasferta. Dobbiamo andare a vincere, secondo me, perché già sabato dovevamo vincere, non siamo riusciti per altri motivi. Speriamo che sabato andremo a vincere a Breccia, perché una vittoria sarebbe ottima.